imbisibol Dimashini fa ora in live che bello essere in live il bano perchè non mi mette pronto? non è una cacotta imbisibol mi dovrebbe sapere quel mustang lì di che parte del mondo è mi bravo i denti ci sono vai ma si che guardi che parte di Italia ragazzi ricordatevi che niente musica niente madonna niente parolacce non lo capite che si fa? niente musica niente festemmia no ti trovo eh oh ti trovo Mike puoi passare un pelettino proprio poco poco perchè era un bombo eh? davide qualcuno che ti guarda? no per ora no ma il mat entra dopo il mat quando fa il problema? sì doveva farlo stasera ma si vede che l'ho fatto domani mattina per il team god? sì spero che entri oh no oh no oh no ma come si salta? ecco la gravità aumentata ci si mette anche un mucchio a scendere un po' di più nonna eh ci si potrebbe anche di vite tanto no no zio ci ho provato prima di vite ma dammi i compagni è difficile io invece mi voglio di vite se no è però non so io vado qua noi vanno dove si va? ah ci va dalla scienzia le rovine le rovine le rovine le rovine le rovine attenziono qui qui vanno però quando ah no non c'è più la casa che si apre il paragadute e vai su di botto eh no che schifo è la cosa più bella di quando a serrano eh si è vero ci sono anche i rampuni eh si ci sono anche l'impulso natural eh ma non ho provato a cerchino no no ma fatemi anche da paciente non ci sono uno da me perfetto io sono già morto guarda sei già morto ci si è morto ci si è morto ci si è morto c'è anche uno da te oh ho trovato un caccia grande pano grande pano grazie ci dovrà eh ci sono anche il gioco i mozzi limitati efficienti appena arriva su sniper in stanza in stanza in stanza sniper in stanza sniper in stanza sniper in stanza no no sono morto è dentro che palle sono morto ma il massimo di madrile è 70 sì eh sì no no riga riga guardate le storie riccardo no io mi che che vergogna di c'è c'è la sessione con loro con scritto si abbandona ass che ma fa è venuto lui cerca rogne ha perso e mamma mia non ho proprio a cosa era qui che è entrato prendi tutto lo voglio è entrato da qua oh dio è morto anche questo perchè è troppo scarse è c'è un altro spazio che te lo eh sì morte eh sì grande morte trovi te che ti so m è è ma si può mirare mentre salgo chi se lo ricordava le champ li ha fatto corti molto bello non ci dice non ci dice siamo un rampino alla cazzo di cani e tanto che ce l'avevo anch'io aspetta carino sì avevo capito Matte vabbè ma anche io non è che sono meglio eccolo eh sì l'ho visto non so avvicinarsi il gran figlio eh è sceso è sceso è nel cestino eccolo io se lo prendevo di nostri volevo cento euro se lo prendevo di nostri no vanno a morù corcettini non si sa mai l'ha infatti infatti grande vero c'è easy 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 ed ah ma c'è un bel gioco di vita lo si è e si troppo forte easy dopo vanno ti lascio un po' di colpi che ecco perchè sennò dopo ah perfetto guarda non sapevo se potessi fare questo io zero io sono già morto Vanno sta rianimando sta rianimando sono morto Vanno non lo vedete ha rianimato Tommy te lo metto finora faccia un'altra modalità non ci posso crede uno l'ho pochillato fermata in lobby perché sono in lobby faccia un'altra modalità aspetta ora voglio vedere davvero la storia di Ricardo abbandona tommy poi metti le squadre certo certo noi un giorno si può vincere una sessione guarda che c'è la stromberg no e poi e poi dopo ora vado contro la l'oppressor e poi dopo tanto noi ma l'oppressor se ce l'hai come me è inutile Vanno se ci puoi mettere i missili devi comprare i missili se non c'hai i missili non serve a nulla insomma non c'ha armi ehi non c'ha un'altra non fa nulla di danno per ammazzati ci vuole 3 secondi se volete se volete vi capire già quello con sicana l'altro birga che ho ciao italiani basta lui per ammazzarlo può giocare anche da solo che c'ha tutte le macchine del gioco comprese questo è il nuovo dlc warstock tutto l'ufra non c'è neanche l'account moddato eh gioca da tanto ti ho detto forse gioca dall'inizio provo capri si posso finire questa o devo staccare l'ora? non mi guarda è la prossima vabbè 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 devo staccare la live no devo staccare la live perché non va al telefono la wifi non mi regge bello